Buonasera a tutti, io mi chiamo Angela e rappresento di Giovanni Dozzi. Io mi ritengo una ragazza fortunata perché sono nata e cresciuta a Roma, in Italia, e anche se vivo qua, so parlare filippino, ossia l'inducano. Ne hai vaga quando mi hanno in atto? Tutti i nostri genitori fanno molti sacrifici per noi e per il nostro bene. Per ricambiarli dobbiamo ubbidirli, rispettarli e studiare bene. In Filippine e nel mondo però, i bambini non fanno la nostra stessa vita perché sono più sfortunati, oppure perché abitano nella strada, cercano il cibo nella spazzatura, vendono l'emotina, fa paghita, balò, sigarette e giornali. Adesso vediamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.